IAN TI HO PREPARATO DEI BICOTTI A LA CALCO Hai 18 anni e non hai mai avuto una ragazza? Ce l'ho una ragazza. Dove l'hai beccata? Su internet. Ma quella ci avrà un tronco davanti. Lei è la ragazza di internet? Ma non vuole me, ok? Vuole lui. Sei il mio fratellino. Chiedi e ti sarà dato. Posso usare la giage? Ma che roba è quella? Sta' attento! Ok! Ciao! Nella foto hai tutto più grasso. Sì, mi sono dimagrito una cifra. Ho avuto la caccarella. L'influenza. Ravante. Metti la testa sulle mani! Signore, glielo di capopazzo, io non ci capisco. Il pupa messicano fa resistenza! Sparate! No cacatsu! Oh, no. 2005 è un figlio.